Restare in scia alla Juve risparmiando qualche energia per il Benfica, la soluzione per il Napoli è puntare sulla voglia di riscatto di Gabbiadini, subito protagonista con la frustata sventata da Sorrentino. Panchina per Milik dunque, ma anche per Usai, Alain e Mertens, chi non riposa mai è Kayekon, che riceve la splendida imbucata di Amsic e con intelligenza prende il rimorchio proprio di Manolo e Gabbiadini. Si sblocca l'ex Sampdoriano, primo gol di stagione, ventunesimo in azzurro, a celebrare la sua centocinquantesima in Serie A. Chievo in difficoltà in questa fase del grande Napoli, Isin per Amsic che di sinistro, batte ancora Sorrentino, arriva il gol numero 100 in maglia azzurra per Marecchiaro. L'ottantatresimo in Serie A per lui, risultato in cassaforte già nel primo tempo per il Napoli. Nella ripresa Kayekon prova a rimontare i cardi, in vetta la classifica a marcatori, ma il suo sinistro stavolta finisce largo. Nel finale sul lancio di Radovanovic scatta sul filo dell'offside Floro Flores, se la cavano con Mestiere, Reina e Koulibaly finisce 2-0. Ed è la nona vittoria consecutiva in casa a cavallo dei due campionati, come non accadeva dal 90 per il Napoli. che bracca l'aiuto.